ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di coffee break italian to go la domanda di oggi è quando è il tuo compleanno o formale quando è il suo compleanno lo ripeto quando è il tuo compleanno o formale quando è il suo compleanno va bene ascoltiamo adesso le risposte della gente il mio compleanno è il 17 febbraio il mio compleanno è il 3 luglio d'estate il mio compleanno è il 4 luglio il 18 gennaio 3 dicembre il mio compleanno è il 25 novembre il 17 luglio il mio è il 9 luglio è il 27 giugno il mio compleanno è a mese di aprile sono del segno zodiacale toro io invece uno scorpione il 26 ottobre il mio compleanno è il 10 marzo è stato il 19 maggio il 27 maggio il mio compleanno è il 31 agosto 14 luglio il mio compleanno è il 26 marzo invece il compleanno di pietro il 14 dicembre e facciamo tante feste il 17 marzo il giorno di san patrizio è il mio compleanno è la settimana prossima il 4 giugno fatemi auguri wow che interessante e ora vediamo tutte queste risposte con i sottotitoli il mio compleanno è il 17 febbraio il mio compleanno è il 3 luglio d'estate il mio compleanno è il 4 luglio il 18 gennaio 3 dicembre il mio compleanno è il 25 novembre il 17 luglio il mio è il 9 luglio è il 27 giugno il mio compleanno è il mese di aprile sono del segno zodiacale toro io invece uno scorpione il 26 ottobre il mio compleanno è il 10 marzo è stato il 19 maggio il 27 maggio il mio compleanno è il 31 agosto 14 luglio il mio compleanno è il 26 marzo invece il compleanno di pietro il 14 dicembre facciamo tante feste il 17 marzo il giorno di san patrizio il mio compleanno è la settimana prossima il 4 giugno fatemi auguri e ora è il tuo turno ho una domanda per te quando è il tuo compleanno molto bene allora è tutto per oggi e arrivederci a presto per una nuova puntata di coffee break italian to go ciao 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 ciao